Carlo Galli, prego. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla missione italiana a supporto della Guardia Costiera Libica presenta caratteristiche evidenti di criticità, tutte evidenziate nell'atto di indirizzo che articolo 1 MDP ha autonomamente presentato. La esilità giuridica e politica della legittimazione, in primo luogo, si tratta infatti di alcune risoluzioni ONU che prevedono in realtà un quadro di intervento internazionale e di una lettera segretata di una personalità, il Presidente del Consiglio nazionale libico, internazionalmente riconosciuta ma dal debole potere effettivo, il che colloca il nostro intervento in un contesto segnato da un alto grado di instabilità politica e militare. La scarsa chiarezza dell'impegno che ci assumiamo è poi evidenziata nella nozione di supporto. Che è il perno della deliberazione governativa, una nozione che si presta a molte interpretazioni sul campo e che da parte nostra abbiamo cercato di determinare e delimitare con esplicite restrizioni, come ad esempio l'esclusione del blocco navale e dell'intervento armato via terra. Esplicitazioni che fanno parte del dispositivo del nostro atto di indirizzo e che sono state accolte anche in quello della maggioranza al Senato e messe in premessa in quello della Camera, il che ha segnato un significativo successo della nostra iniziativa politica, un successo che apertamente rivendichiamo. Ulteriore criticità è il destino dei migranti, una volta ritornati in Libia per azione della Guardia Costiera Libica con il nostro aiuto. È evidente che di questo punto delicatissimo si deve esigere dal governo italiano che si impegni presso quello libico per ottenere le più stringenti garanzie che essi vengano trattati sulla base irrinunciabile del diritto internazionale umanitario. E si deve altresì agire perché si attivino organizzazioni come l'Alto Commissariato ONU sui Rifugiati e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e perché queste siano responsabili della supervisione diretta dei centri di accoglienza in terra libica. Infine, la criticità più evidente è che questa operazione, in pratica l'estensione di mare sicuro dentro le acque territoriali libiche, non ha la minima possibilità di affrontare alla radice la questione dei migranti, sia per la sua esiguità materiale, sia perché la questione che vuole affrontare nasce da alcune delle più acute contraddizioni dell'attuale modello di sviluppo planetario. È una questione che si nutre di disperazione, di disumanità, di criminalità e che ha visto tra le cause prossime sia la sciagurata guerra mossa da alcune potenze occidentali alla Libia, che ne ha distrutto la compagine statuale, sia l'inerzia dell'Unione Europea riguardo le politiche di gestione dei flussi migratori, una inerzia che si è sostanziata, finora, in promesse disattese, nella inflessibile riaffermazione di regole che scaricano in pratica solo sull'Italia tutto il peso dell'emergenza umanitaria delle migrazioni africane e che ha generato, non senza nostre responsabilità e imprevidenze, irrigidimenti diplomatici, elevazione di muri confinari, nuovi nazionalismi e nuove rivalità anche fra paesi amici e alleati. L'Italia a questo punto non può non cercare di prendere in mano la situazione, benché gravemente compromessa, con un'iniziativa non certo risolutiva a cui è costretta dalle circostanze, con l'umanità e il senso del diritto e della giustizia che ne contraddistinguono l'azione internazionale, ma anche con un convinto senso di responsabilità verso i propri cittadini e verso il proprio interesse nazionale. I cittadini italiani, infatti, già provati da quasi un decennio di crisi economica, hanno il diritto di vedere all'opera una politica capace almeno di chiamare i problemi con il loro nome e di sforzarsi di iniziare a risolverli secondo le proprie possibilità. E la politica ha a sua volta il dovere anche di perseguire quell'opera di pacificazione, di messa in sicurezza, di ristabilimento della fiducia e della cooperazione fra le due sponde del Mediterraneo che la storia e l'evidenza geopolitica destinano al dialogo più stretto. E' evidente che in questa azione di responsabilità l'opzione che oggi si prefigura da parte del Governo non è sufficiente e che essa non dovrebbe essere altro che un tassello di un ben più ampio sforzo parallelo comprendente l'attivazione di corridoi umanitari, di canali di accesso protetti e riconosciuti dall'Unione Europea, oltre che di un'azione internazionale a largo raggio che sappia mettere in prospettiva un'idea di sviluppo compatibile per l'Africa. Ed è altrettanto evidente che la consapevolezza delle criticità segnalate motiva articolo 1 a votare per le parti non assorbite da quella della maggioranza a favore della propria risoluzione, nella quale le contraddizioni vengono ben evidenziate e nella quale si dà alle organizzazioni non governative il giusto riconoscimento della loro azione benemerita che troppi oggi tendono a criminalizzare e tende anche e motiva anche il nostro raggruppamento a dare un voto di appoggio alla risoluzione della maggioranza in un'ottica di assunzione di responsabilità nazionale più che di specifica fiducia verso l'esecutivo. Un appoggio tuttavia necessariamente articolato date le diverse sensibilità presenti del tutto legittimamente all'interno del nostro gruppo, soprattutto su un tema così complesso e controverso e davanti a un intervento governativo così incerto. La ringrazio. Adesso do la parola a deputata Mara Carfagna. Prego. Grazie Presidente, colleghi. Innanzitutto una premessa in merito all'atteggiamento che Forza Italia ha tenuto nel corso di questi anni.